Allora, dieta del minestrone, dieta delle mele, dieta della pizza, dieta del gelato, la dieta delle birre, insomma, lei in tutti questi anni di professione, qual è la dieta più assurda che le sia mai capitata di ascoltare? È una bella lotta, devo dire. Forse la cosa più assurda è questa cattiveria del sondino nel naso che vedo recentemente. È veramente una cattiveria perché non si capisce... È come se non deve essere così, sa, la sofferenza è una funzione catartica, quindi siccome sei stato monello che hai mangiato, mo ti metto un sondino nel naso per farti mangiare qualche gramma di proteine che potrei mangiare anche senza sondino, voglio dire, ecco. Ecco, la dieta delle proteine è una delle diete che, insomma, ha più successo sia per la velocità del dimagrimento così tanto declamata, sia per il fatto che sazia moltissimo... se qualcuno vuole delle informazioni... E allora, per quanto riguarda la dieta delle proteine, io dico che gli ultimi 30 anni delle nostre tentativi di sciocchezze dietetiche, il comune denominatore di tutte queste diete, se lei ci pensa per un istante, è la mancanza di zuccheri. Che poi mangi il minestrone, che poi mangi due grammi di proteine, o che sia quella che vuole, è mancanza di zuccheri per un motivo. Questo tipo di diete sono chetogenetiche, cioè il fatto di non mangiare carboidrati, dopo qualche giorno, pochi giorni, il nostro corpo produce, bruciando i grassi, le sostanze che si chiamano corpi ketonici, i quali sono i più potenti, hanno resizzanti che esiste, bloccano il centro della fame. Quindi, il non mangiare carboidrati ti porta, dopo qualche giorno, a non aver voglia di mangiare. L'idea di poter mangiare quello che voglio è soltanto un'idea, non è un fatto reale. Uno, due. Le sciocchezze che si raccontano sono tante, mi credo. I nostri ultimi 30 anni sono stati attraversati da grandi sciocchezze che hanno combinato anche grandi danni. Vorrei ricordare, uno per tutti, i miei, ahimè, colleghi cosiddetti pillolari, questi sorti di vucumprà dell'alimentazione che hanno distribuito chili di anfetamine a più non posso, producendo veramente danni, attenti, detto da chi, da uno specialista, vorrei dire in scienza dell'alimentazione, e che si occupa di questi problemi da 40 anni ormai, vi fa meno male avere qualche chili in più che fare sciocchezze per perderlo. Allora, rivolgetevi alle persone esperte. Questo è il congetto. Il problema è che ci sono anche degli esperti che invece sottopongono questo tipo di dieta. Parliamo della dieta Dukan, parliamo della dieta Scarsdale, parliamo di medici che in passato e più recentemente propongono queste diete iperproteiche. Non sono esperti e non sono medici. Questa è la cosa ridicola. Le pensi che dei dieci libri più venduti al mondo in campo della dietologia, ben i primi nove sono stati scritti da persone non addette ai lavori. giornalisti, presentatori televisivi, chimici, biologi, che si alzano una mattina e si inventano una sciocchezza quasi. Perdere peso è facile. Non si discute. Io dico sempre, scherzando ma non troppo, che nei campi di concentramento persone grosse non ce n'erano, ma non erano magre. Erano denutrite, deperite, malnutrite. Non erano magre. Quindi attendo, quando perdo tanti chili in pochissimo tempo, non perdo grasso, perdo muscoli, perdo acqua, perdo tutto e anche un po' di grasso. Quindi è un sacrificio inutile che faccio, depauperando il mio organismo di ciò che gli serve veramente. Bene. Le calorie non sono l'unica cosa da tenere sotto controllo, eppure diventa una vera e propria ossessione. Come osservare i cibi? Io penso che le calorie diventano un'ossessione. In realtà, dopo il boom economico abbiamo mangiato sicuramente tanto di più. Ma adesso non mangiamo tanto di più. È che ci muoviamo di meno. Pensi a un istante. Io ho il box della mia macchina. Per accedere a questo box ho bisogno di passare un primo cancello, poi un secondo cancello, e poi ho il box, anche questo, basculante, però con il telecomando. Pensi se ogni volta dovessi fermarmi, scendere, aprire il cancello, andare oltre, chiudere il cancello e tornare, e così via. Non sono molte calorie ogni volta, però si fa sistematicamente. Pensi se le si dovesse alzare ogni volta, mai a telebari naturalmente, cambio il canale alla televisione invece del telecomando. Mi alzo e torno indietro. Il problema è che non mangiamo tantissimo e che ci muoviamo pochissimo. Giusta osservazione, dottor Pignatelli. Ma lei ha dieta? Io purtroppo mi sforzo molto, certi principi li seguo sicuramente, certo. Poi, sa, il cibo è anche un fatto sociale. Lei pensa che io da 40 anni, circa, scrivo nelle mie diete, che vengono puntualmente scritte sempre a mano e con la mia cara vecchia pena stilografica, pizza tra virgolette sabato sera. Intendendo dire con questo che la dieta non può diventare un'angoscia, una mania, ciò che ci impedisce di vivere bene. La dieta deve essere uno stile di vita. E quindi, in questo stile di vita, anche lo sgarro con gli amici una volta ogni tanto va bene, perché altrimenti mi pagherai un prezzo troppo alto, anche dal punto di vista psicologico, infatti non vivere più una vita di relazione perché sto a dieta. Cantare fa dimagrire? No, purtroppo, perché io canto tanto, mi piace tanto. Il karaoke lei, no? Sì, sì, sono diventato ormai un esperto, però, ahimè, sarei veramente molto magro se cantare facessi dimagrire. Allora, ci dica il segreto per essere felici col proprio corpo e chiudiamo così la nostra intervista. Accettarsi, volersi bene per quello che si è. Questo è fondamentale, con i nostri anche difetti, piccoli o meno piccoli che siano. Lo sforzo che ciascuno deve fare per stare bene con se stessi è sicuramente fondamentale, ma io continuo a pensare che più che apparire bisogna essere, come c'era anche un libro molto famoso con questo titolo. Allora io dico, vogliamoci bene, vogliamoci bene anche impedendo al nostro corpo di degenerare e quindi di procurarsi dei danni dal punto di vista salute, perché vorrei ricordare che i chili in eccesso sono un attentato serio alla nostra salute. Sto parlando dei chili in eccesso, vi prego, i due, i tre, i quattro chili, non venite da me. Non venite, sto parlando contro di me, non fanno male alla salute. Certo, se mi servono per stare bene con se stessi benvenga a perdere anche quei tre, quattro chili, ma niente mai deve diventare un'ossessione, niente mai deve diventare un'angoscia, niente mai deve diventare una mania. Quindi accettiamoci per quello che siamo e cerchiamo tutti quanti di migliorarci. Grazie al dottor Vincenzo Pignatelli. Grazie a voi e voglio dire complimenti perché fare delle trasmissioni sull'argomento non basta mai. Grazie.